Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come sovrapporre un'immagine di un primo piano di una modella con uno sfondo a pallini un pochino ipnotico. Noi abbiamo questo primo piano di questa modella e poi abbiamo questo sfondo e noi vogliamo che il risultato sia appunto questo che abbiamo qui nel desktop. Allora, apriamo immediatamente la prima immagine e apriamo l'immagine dello sfondo. Le due immagini, voi noterete, sono di dimensioni diverse, quindi noi dobbiamo un pochino modificare la dimensione affinché siano compatibili. Possiamo fare sblocca perché se non sblocchiamo questo livello, il livello di sfondo, dopo non possiamo ridurre o ingrandire le nostre immagini. Possiamo ridurre questo pannello qui che non ci interessa, poi andiamo nel menu livello, aggiungi livello con immagine perché noi vogliamo due livelli con due immagini e aggiungiamo il primo piano. Abbiamo aggiunto il primo piano, se noi con la rotella, è molto utile la rotella del mouse, sempre avere il mouse con la rotella, diciamo, facciamo uno zoom all'indietro, ci rendiamo conto che lo sfondo, vedete, della modella è più piccola, cioè il primo piano della modella è più piccolo dello sfondo. Allora, noi prendiamo queste maniglie, quando fa lo snap ci blocchiamo e facciamo in maniera tale, vedete, che le due immagini siano compatibili dal punto di vista della dimensione. Poi, siccome notiamo che qui c'è questa struttura radiale, cioè dal punto centrale partono i pallini, allora noi vogliamo che quei pallini partano proprio dal naso. controlliamo lo tasto destro, diminuiamo l'opacità, vedete, e noi ci rendiamo conto che i pallini non partono dal naso. Allora, a questo punto, che cosa possiamo fare? Selezioniamo lo sfondo, mantenendolo selezionato, con le freccette proprio sulla tastiera, vedete, piano piano, noi possiamo farlo partire più precisamente dal naso. Ed ecco che abbiamo messo che questa struttura possiamo anche farlo partire proprio dalla punta del naso e poi allargare un pochino l'immagine e ricentrarlo. Eccoci qua. D'accordo? Allora, adesso la struttura radiale parte proprio dal naso. possiamo fare tasto destro, riaumentare l'opacità a 100 e adesso dobbiamo fare una selezione perché noi vogliamo che questa specie di spugnatura che noi faremo con lo strumento gomma colpisca solo certi alimenti, non altri. Per esempio, non dovrà colpire gli occhi, non dovrà colpire la bocca. Selezioniamo lo strumento laso, facciamo una sfumatura di due con l'opzione, ovviamente, nuova selezione. facciamo un pochino uno zoom e partiamo a mano con il mouse, premiamo e manteniamo premuto. Usciamo, possiamo uscire dal livello, rientriamo. Noi stiamo tenendo fuori le orecchie perché ci piace così, ci piace che quel particolare venga completamente sfumato. Ed ecco che rientriamo e abbiamo in una maniera molto grossolana e veloce selezionata l'immagine. Quella che possiamo fare, possiamo fare nel menu seleziona, inverti, soltanto temporaneamente invertiamo la selezione perché noi vogliamo queste parti ancora più sfocate. Facciamo filtro, dettagli, sfuoca e vedete con questo strumento aumentiamo la sfocatura solo di ciò che c'è fuori, lo notate? Vedete così è a fuoco e così sta andando fuori fuoco. Ne facciamo una sfocatura di questo tipo, perfetto. Abbiamo sfocato le orecchie, quindi facciamo selezione, nuovamente inverti le selezioni. A questo punto noi dobbiamo escludere da questo fotoritocco gli occhi. Quello che bisogna fare è selezionare l'opzione rimuovi dalla selezione. Andiamo sempre a mano, ingrandiamo un pochino ed ecco che anche se in una maniera un pochino grossolana, un pochino veloce per far sì che questo video non sia troppo lungo, noi selezioniamo gli occhi. Riduciamo lo zoom, andiamo al secondo occhio e ci accertiamo sempre che sia selezionato rimuovi dalla selezione. Ripartiamo da qua per avere un punto di partenza, selezioniamo gli occhi più il tipo di trucco che gli è stato fatto dal truccatore. Facciamo così. Lo stesso stratagemma noi utilizzeremo per le ciglia, sempre quelle sopracciglia, sempre rimuovi dalla selezione, perché noi vogliamo che questi particolari rimangano definiti, non vengano colpiti dal fotoritocco. Quindi noi qui vogliamo definizione. In ogni luogo in cui vogliamo mantenere la definizione, noi facciamo rimuovi dalla selezione. Selezioniamo anche il secondo di sopracciglia, zoomiamo indietro, controlliamo e adesso andiamo sulla bocca, perché anche la bocca vogliamo che rimanga selezionata con una definizione che non deve essere toccata dalla sovrapposizione del livello sottostante. Facciamo così a mano. Benissimo. Selezioniamo indietro e vogliamo anche che questa parte, siccome ha una sua tridimensionalità, non venga toccata dalla sovrapposizione con lo sfondo dei pallini. Selezioniamo anche questa qua. Perfetto. Adesso, siccome abbiamo fatto una selezione principale del viso e una rimozione della selezione degli occhi, sarà molto facile con lo strumento cancellino o gomma. Lo selezioniamo, sempre tenendo selezionato il primo piano della modella e avendo sotto lo sfondo dei pallini, noi portiamo l'opacità al 10%, perché non deve essere così opaca. Poi portiamo la dimensione dello strumento al 150% e facciamo il più sfocato possibile. Sembra molto grande, ma noi ci rendiamo conto che dopo che abbiamo fatto la selezione, se noi facciamo così, vedete, ciò che abbiamo escluso dalla selezione non verrà colpito e quindi i pallini non verranno fuori all'interno degli occhi, perché non ha senso mettere gli occhi con i pallini neri, soltanto la pelle del viso. Quindi io sto facendo una specie di spugnatura per togliere dal livello soprastante tutto ciò che voglio, che invece appaia come il livello sottostante. E siccome io ho tolto dalla selezione la bocca, vedete che in pratica io posso fare una maniera anche grossolana, non precisa, continuando a cliccare laddove io voglio che i pallini appaiano di più, che ci sia, diciamo, una concomitanza maggiore dello sfondo rispetto al primo piano, continuo a cliccare. Bene, io a questo punto mi posso ritenere soddisfatto. Quello che posso fare è seleziona, deseleziona e scegliere esclusivamente diciamo la parte che mi interessa di questa immagine. Facciamo una selezione, quella semplice rettangolare, facciamo così. Eccoci qua. A parte questo, facciamo tasto destro, appiattisci immagine, adesso abbiamo una sola immagine, possiamo andare nel menu immagine, ritagliari quadro ed ecco che abbiamo soltanto la nostra immagine. A questo punto qua noi possiamo applicare, per esempio, nella libreria degli effetti, possiamo scegliere nella sezione Friends, a noi ci piace, l'effetto Gene perché dà un certo, vedete, contrasto tra la parte dietro, vedete che noi già l'avevamo sfocata per far capire all'effetto Gene e il primo piano della modella, facciamo applica, vedete come l'orecchio, questo qua è praticamente sparito e il secondo piano è diventato tutto nero. A questo punto, quello che possiamo fare, aggiungiamo un altro livello e noi qui dietro ci possiamo mettere un gradiente con i colori principali bianco e nero, partiamo dall'alto, premendo maiuscola sulla tastiera la linea rimane fissa, noi vogliamo, perché siamo partiti dall'alto, perché vogliamo che il bianco, diciamo, stia soprattutto nella parte alta, però noi volevamo il radiale, quindi rifacciamolo, perché tutta la struttura è radiale, maiuscolo, premiamo, lasciamo premuto ed ecco che è venuto un radiale. Facciamo lo sfondo, poi che cosa possiamo fare? Una specie di bordino sfocato, selezioniamo questo tipo di strumento, facciamo questa volta una sfumatura abbastanza alta, a 15, e prendiamo un piccolo bordino qua per far sembrare come se fosse una foto invecchiata, facciamo seleziona, inverti, nella tastiera possiamo premere cance ed ecco che vedete che da dietro riviene il secondo layer, che è questo qua, che è questo con questa sfumatura radiale, vedete che radialmente si ripropone soltanto, praticamente si ripropone soltanto nel bordino, facendo questo tipo di effetto. Possiamo fare nuovamente tasto destro, appiattisci immagini, adesso noi dobbiamo far rivenire fuori il colore degli occhi, perché è quello che ci interessava, con lo strumento selezione ad ellisse, selezioniamo l'occo sinistro, e poi facciamo sempre aggiungi alla selezione, così diamo un effetto del colore contemporaneo ai due occhi, di modo che i due occhi vengano colorati alla stessa maniera, quindi abbiamo fatto una selezione ellisse, poi aggiungi alla selezione, andiamo nel menu regolazioni, bilanciamento colore, e se noi lo vogliamo, diciamo che questo elemento vada verso il verde, noi non dobbiamo fare altro che ridurre il blu ed aumentare il verde, ecco che vengono verso il verde, applichiamo, facciamo selezione, deseleziona, vedete che gli occhi sono venuti verso il verde, poi noi vogliamo che invece la bocca vada verso il rosso, che rivenga fuori il rossetto, allora rifacciamo la selezione a mano, facciamo sempre con una sfumatura di due, ci vuole un pochino di pazienza in questi fotoritocchi, i passaggi sembrano tanti, ma in realtà poi quando uno si impadronisce di questo tipo di fotoritocchi sono abbastanza intuitivi, eccoci qua, abbiamo sbagliato perché vedete abbiamo lasciato e lo strumento ci ha lasciato l'opzione rimuovi dalla selezione, invece era nuova selezione, quindi abbiamo perso un po' di tempo, bisogna sempre stare attento con questo strumento perché si ricorda, tentiamo di farlo bene mentre parliamo, si ricorda dell'opzione che viene selezionata precedentemente e te la lascia attiva, sarebbe meglio che invece quando uno fa la selezione non rimanga attivo, rimuovi dalla selezione perché non ha senso. Benissimo, noi abbiamo selezionato la bocca anche se in una maniera molto grossolata, andiamo sulle regolazioni, bilanciamento colore, in questo caso noi vogliamo che vada verso il rosso, quindi demoliamo il green, demoliamo il blu e aumentiamo ovviamente il rosso ed ecco che riviene fuori. Facciamo selezione, deselezione, vediamo fuori come è venuto, questo è il nostro fotoritocco, ci riteniamo soddisfatti, abbiamo rifatto gli occhi verdi e la bocca rossa, possiamo fare file, esporta in maniera rapida, vedete che ce lo mette direttamente nella scrivania perché il browser diciamo ha ricevuto l'ordine di scaricare tutto ciò che viene scaricato da internet nella scrivania, possiamo cambiare il nome, lo chiamiamo fotoritocco, vediamo come è venuto, doppio clicchiamo il sorgente, l'originale, clicchiamo qua e questo, questo è il fotoritocco, aspettate che lo vediamo meglio, cancellando questo di modo che non ci rimbalzi da un all'altro, ecco qua, questo è il fotoritocco, vedete noi abbiamo sovrapposto lo sfondo con i pallini, poi abbiamo fatto l'effetto Jean che ci ha sfocato ed eliminato tutto il secondo piano e abbiamo ricolorato gli occhi di verde, vedete la differenza? Si nota, poi abbiamo lasciato vedere anche il trucco di modo che i pallini e lo sfondo bianco non riguardasse il trucco e abbiamo lasciato anche le caratteristiche delle ciglia perché ci piacevano, ecco qua, questo è il fotoritocco. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero sia stato di vostro interesse e di vostra utilità al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti